Lascio quindi la parola a Professor Bubbio per la prima presentazione. Perfetto. Bene, grazie. Buongiorno a tutti. Ovviamente mi fa piacere che il numero sia elevato, perché ovviamente, come avrete modo anche di percepire nella mia presentazione, le cose che sono state dette prima sono, secondo me, molto reali, molto concrete. E' un strumento fondamentale e molto importante, soprattutto in questo momento dove è difficile fare dei piani, ma è necessario cercare di pensare al futuro. E quindi, sostanzialmente, questo potrebbe essere lo strumento che mai prima d'ora, nei 25 anni di vista, ha avuto una sua validità, una sua utilità. Certamente c'è una cosa, non è uno strumento complesso, una cosa che bisogna capire bene. Assolutamente non è uno strumento complesso. Molto spesso, quando io andavo in azienda e in alternativa presentavo un po' i due strumenti che risultavano essere quelli più a forte contenuto di impatto strategico, l'Activity Based Costing e la Banner Scorecard, tutti mi dicevano ma la Banner Scorecard è decisamente più semplice, è vero, è decisamente più semplice, è decisamente più facile da capire, però deve essere capita. E devo dire che non sempre, nella mia esperienza, ho visto che questa comprensione c'è stata, perché poi, per fortuna, la Banner Scorecard non l'ho proposta soltanto io, perché sarei stato un po' come San Giovanni, che urlava nel deserto e non succedeva assolutamente nulla. Invece, per fortuna, qualcosa è successo e quindi alcune aziende hanno utilizzato la Banner Scorecard, ma, purtroppo, a certe volte l'hanno un po' bruciata, questa idea di Banner Scorecard, perché non hanno considerato l'elemento centrale della Banner Scorecard che è quello anche che è al centro della mia relazione, cioè la mappa strategica. Consentitemi di fare un'affermazione un po' forte, ma importante, non c'è Banner Scorecard se non c'è la mappa strategica. Se uno mi fa vedere una Banner Scorecard, dice, questa è la mia Banner Scorecard, dove è la mappa strategica? Non c'è, mi spiace, diventa una cosa, un esercizio anche magari bello dal punto di vista estetico, perché poi qui, come Alessandro vi farà poi vedere, la BI fa degli effetti speciali che neanche Spielberg pensava di poter avere a sua disposizione. Quindi è chiaro che con gli effetti speciali anche dei numeri che certe volte possono sembrare non utili, sembrano belli, sembrano utili. In realtà i numeri servono se sono numeri che danno evidenza ad aspetti che hanno una rilevanza strategica. E per capire questi aspetti di rilevanza strategica bisogna analizzare i fenomeni. La mappa strategica che cos'è? Non è nient'altro che un tentativo di analisi approfondita dei fenomeni, applicando una logica che viene da lontano, perché è la logica che è stata messa a punto dal professore J. Forrester dell'MIT nel 1965, che è l'analisi dinamica dei sistemi. Con l'analisi dinamica dei sistemi cosa si cerca di fare? Si cerca di costruire dei modelli, dei modelli concettuali, nei quali le variabili che io inserisco hanno tra loro una precisa relazione di causa-effetto. Una variabile non viene inserita nel modello se non ha una giustificazione in termini di causa-effetto. E capite che un discorso di questo genere è quello che ovviamente richiede quando si lavora sulla Banascoca un po' di tempo. È il momento più delicato nell'elaborazione della Banas, è quello in cui ci si mette intorno a un tavolo, perché è stato detto molto correttamente, prima lo ribadisco prima che sfuga qualcuno, la Banascoca non è di uno, la Banascoca è di più persone, sono più persone che si mettono a lavorare insieme, chiamatele executive team, chiamatele steering committee, chiamatela come volete, ma è un insieme di persone che riflettono sui percorsi, i tracciati strategici dell'impresa nel futuro. Allora capite che se questo è un po' la premessa, io devo, quando inizio a pensare anche alle relazioni di causa-effetto, non fare delle riunioni con me stesso o con il controller, devo fare delle riunioni con questo team, in modo che si arrivi alla fine anche a condividere i risultati della Banascoca. E questo, sconsentitemi, è un'altra cosa che differenzia la Banascoca da altre attività di pianificazione, perché le attività di pianificazione purtroppo, purtroppo, molto spesso sono fatte da singole persone. Nelle grandi imprese c'è il planner, che fa il piano, fantastico, quel piano lì vi posso assicurare che non verrà mai realizzato. Perché? Perché l'ha fatto lui. Ma non perché lui sia un deficiente, ma magari ha fatto un piano fantastico, tant'è vero che molti piani strategici sono definiti splendidi piani dei sogni. E' un pianificatore che in una casellina non ben identificata, ma che dovrebbe essere vicino all'amministratore delegato, che non vede mai nessun particolare problema di gestione operativa. Quando fa un piano, fa una roba che è il libro dei sogni, troppo staccato dalla realtà. Quindi la prima mossa, per qualsiasi discorso che vuole essere operativo, visto che noi oggi abbiamo fatto questa sessione con dei casi. Perché? Perché senza casi non si va da nessuna parte. Senza esperienza non si fa apprendimento. E senza apprendimento non si fa innovazione. Quindi c'è una sequenza, capite, che è drammatica e che noi tutti dovremmo sempre tenere presente. Io ringrazio l'aver avuto dei maestri che mi hanno detto mi raccomando non stare mai chiuso nel tuo ufficio. vai nelle imprese, vai nelle imprese, vai a vedere quali sono i problemi. Il grande Pietro Nida diceva la nostra ricerca economico-aziendale è fatta male. Sapete perché? Perché noi costruiamo i campioni di imprese e devono essere dalle mille alle duemila imprese che fanno parte del campione selezionate secondo criteri statistici perfetti. Fantastico. E se voi dovete analizzare mille o duemila imprese che tipo di profondità darete all'esame? Considerate che è un numero. Quante imprese? Duemila imprese nel campione. Cosa hai imparato? Non lo so. Quello che mi hanno detto loro. Allora, qual è il concetto della ricerca? Meglio avere un'azienda sola ma sulla quale si fa un'analisi molto approfondita, si fa un carotaggio dei problemi molto approfonditi o se no è veramente molto pericoloso pensare di costruire delle teorie. Tant'è vero che lo stesso Kaplan e Nord quando hanno proposto lo strumento la prima volta e siamo nel 1992 articolo su Harvard Business Review che presenta questo balance core car. Ma loro l'hanno presentata dopo aver fatto due o tre casi per l'Hava Business School da discutere in aula dove si presentavano delle situazioni di analisi delle variabili con una pluralità di variabili non solo economico-finanziari. Poi hanno sistematizzato la cosa e con la sistematizzazione della cosa ovviamente sono emerse tutta una serie di cose. Allora, vediamo se riesco a condividere con voi qualche slide in modo che poi ve le lascio anche come momento un po' di approfondimento. Allora, ci siamo? Sì, sì, va bene. Ok, allora una cosa che appunto desideravo fare con voi in questa giornata in questa nostra poche giornata scusate, non spaventate siamo in 45 minuti non è che la mezza giornata la facciamo con tutti i vari colleghi. Allora, una delle cose molto importanti è che quando è stata presentata la balance core car ha fondamentalmente dato una promessa molto intrigante ma anche molto difficile da da mantenere perché il titolo era balance core car ma vedete sopra il titolo c'è una cosa una frase che se Kaplan e Norton non avessero riuscito a dar seguito a questa cosa avrebbero perso tutta la loro credibilità ed è translating strategy into action allora traduzione della strategia non in azione dentro into action qual era il problema che molte aziende avevano che facevano delle splendide strategie e l'ho detto prima spesso queste splendide strategie erano richiuse anche nei piani strategici ma poi non si realizzavano perché perché la strategy non entrava nell'azione quindi era importante trovare uno strumento che facesse questo collegamento tra la strategia e la gestione operativa anche perché sulla gestione operativa noi abbiamo sempre avuto uno strumento qualcuno lo sa perché ha utilizzato bene questo strumento che è uno strumento potentissimo che è il budget e quindi molto spesso in azienda cosa succedeva che si faceva il piano tutti ah che bello eccetera poi facendo il budget dimenticavano il piano allora se io voglio essere operativo la strategia deve entrare nel budget ma come faccio a farla entrare nel budget se non è chiara se non è condivisa ed è il primo elemento fondamentale per fare entrare è che tutti quelli che sono chiamati a elaborare il loro budget il budget delle vendite il programma di produzione il budget degli acquisti tutti questi qui condividono la strategia se no cosa faranno se no faranno delle scelte che sono delle scelte magari utili nel breve periodo ma perdenti nel lungo nel meglio lungo periodo vi faccio un esempio in modo che così mi capiate a me capita ogni tanto di una delle imprese e tutti che mi dicono ah professore abbiamo individuato il nostro problema abbiamo un magazzino troppo pesante per cui dobbiamo alleggerire il magazzino così aumentando la rotazione aumentiamo la reddittività perfetto se io facessi solo l'analisi di bilancio vi direi ragazzi relazione perfetta avete centrato perfettamente l'obiettivo peccato peccato che il magazzino così alto avesse delle origini strategiche per dare il servizio perché i miei clienti quello che vogliono è la tempestività della fornitura se voi volete la tempestività della fornitura dovete avere il magazzino un pochettino più alto di quando voi potete permettervi di non dare tempestività alla fornitura se voi ci pensate anche Amazon ha dovuto fare i magazzini poi loro sono bravi perché il magazzino per i libri a misa in più in Italia lo fan fare a Epli io una volta ho ordinato un po' di libri di management su Amazon e mi arrivano con la confezione e mi dico ma che cazzo che è sta roba qua cos'è sta roba come mai ordinano la parte e magari certo e loro per la consegna tempestiva hanno trovato il gonzo che ovviamente gli mette a disposizione il magazzino e loro non fanno il magazzino però quando io chiedo dei libri dagli Stati Uniti un po' rari anche lì li cucco in fragrante però loro sono bravi perché mi dicono gentile Alberto perché poi sapete vi chiamano per nome gentile Alberto per far arrivare il tuo libro ci vorrà un mese lo vuoi ancora? se sì ecco tieni presente e appunto dovrai aspettare un mese bravi e poi lo fanno arrivare lo fanno anche arrivare prima così fanno anche bella figura se mi cascemi allora attenzione perché il magazzino questo volevo dire non vorrei che qualcuno sfuggisse il concetto il magazzino ha una valenza strategica mostruosa mostruosa soprattutto laddove la clientela desidera la tempestività e siccome noi non siamo come paese just in time perché capite una volta mi chiedevano professore ma come mai in Italia non riusciamo a fare just in time siamo just non in time ma tutto il paese è just non in time e se noi siamo just non in time come facciamo a fare uno di noi fa just in time non è la mosca bianca proprio non può anche volendo riuscire a fare male questa gente per cui mi raccomando guardare sempre le cose non solo in chiave economico finanziaria di redditività più o meno alta ma anche in chiave strategiche allora siccome non tutti mi ero accorto avevano piacere di leggere la cosa in in inglese all'epoca mi ero appunto buttato a curare l'edizione italiana non l'ho tradotto io ho fatto tradore dai tecnici di Iseedi Iseedi era una casa editrice di management storica quindi ero tranquillo che avrebbero fatto una buona traduzione comunque io l'ho seguito e quando c'è stato il problema di tradurre il titolo no io non non ce l'ho fatta scusate budget come lo traduciamo budget e budget in tutto il mondo perché dobbiamo italianizzare una roba che in tutto il mondo si chiama budget poi budget se ci pensate se lo traducete in italiano come preventivo fate la più grossa stupidata del mondo perché il budget non è un preventivo è un piano di azione non è un preventivo quindi inducete anche nell'errore ma vanno a scorcare poi tradotto sapete cos'era? era tabelle segnapunti non le scorca sono tabelle segnapunti bilanciate se stamattina avessimo fatto un convegno tabelle segnapunti bilanciate probabilmente io e Isola che siamo innamorati dello strumento ci saremmo stati Alessandro che ha sviluppato anche tutta la parte in francese ma saremmo stati noi tre e probabilmente forse anche l'imprenditore non sarebbe stato così attratto da questo strumento cosa che invece quel tanto di incertezza insito nel termine non tradotto può anche riuscire a generare quindi è uscito balance scorecard tenete presente che è uscito nel 2000 perché sono passati otto anni perché nel 96 era uscito il libro nel 92 era l'articolo nel 96 il libro ma poi sono stati bloccati i diritti non so da quale casa editrice italiana per cui io sono riuscito a rendere pubblicabile con i sedi la cosa soltanto nel 2000 poi però non mi sono più fermato e siccome capo le notte hanno scritto altri cinque libri altri tre libri oltre il balance scorecard iniziale li ho seguiti io nella traduzione l'ultimo invece ormai erano lanciati a livello anche di mercato per cui Etas Libri mi ha bypassato e ha comprato lei i diritti ha fatto Execution Premium Execution Premium come libro pubblicato in italiano da Etas Libri mentre invece gli altri quattro libri sono pubblicati da EZ detto questo e quindi fatta anche questa storia un pochettino ma giusto per farvi capire alcuni elementi importanti come fa la balance scorecard a mantenere questa promessa molto impegnativa Translating Strategy into action allora primo concetto che dovete assolutamente avere non chiaro strachiaro è che al centro ci sono le performance aziendali non solo le performance ecofin questo lo dico perché io vedo ogni tanto ancora girare delle linee guida redatte non si sa bene da chi nell'ambito di ordini non si sa bene quali si sa benissimo non voglio essere un po' politico su questa cosa che parlano dei KPI come se fossero solo KPI economico-finanziari signora attenzione attenzione giurassico nel giurassico si pensava che gli unici KPI importanti fossero quelli economico-finanziari ma sto parlando di un'era geologica che non c'è più quindi è molto importante pensare che le performance aziendali debbono ampliarsi a una serie di altri variabili non solo alle variabili economico-finanziari anzi le variabili economico-finanziari me ne interessano poche poi dopo se devo fare un'analisi puntuale e molto articolata su questa dimensione le faccio ma non posso centrare tutte le riunioni dei vertici aziendali a vedere i vari indicatori che compongono il boy perché se io faccio una cosa di questo genere riesco veramente di sviare l'attenzione delle persone sviare l'attenzione dei vertici su delle variabili che magari in un determinato momento non hanno così importanza per esempio adesso poi lo vediamo ma anche la reddittività se voi la leggete in chiave più strategica è una cosa diversa rispetto a quelle che siamo abituati a vedere l'altra cosa molto importante è che io con questo Banas Corcar vedete allora io una volta ho letto una cosa bellissima in un libro di organization americano no? in cui dice tutto in azienda dipende da tutto fantastico allora se voi prendete questa affermazione cosa fate? non fate più niente perché sono talmente tutto dipende da tutto che uno dice vediamo cosa succede è inutile che io tenti allora invece il discorso che poi ognuno di noi fa perché so perfettamente che molti di voi tentano di entrare e modificare alcune cose nella gestione di un'impresa e noi cerchiamo di individuare quelle che sono le variabili determinanti e ricordatevi che tutta la dimensione economico-finanziaria non è una variabile determinante è una variabile risultato le cofin sono i risultati delle cose che abbiamo fatto bene o delle cose che abbiamo fatto male questo è le cofin quindi certo che c'è utile perché sappiamo se le cose sono state fatte bene ma quando voi vedete il numero cofin ormai le cose sono state fatte mentre io oggi devo cercare il più possibile di anticipare gli eventi questa è la cosa fondamentale questa è la cosa fondamentale cercare di anticipare gli eventi se ovviamente mi è possibile però anche lì più voi riuscite ad anticipare gli eventi più anche quello che chiamava prima Alessandro il cigno nero che è l'altamente improbabile che diventa probabile anche quello lo riuscite ad affrontare se invece aspettate i risultati fantastico quando oggi mi dicono a un anno di distanza dal primo lockdown professore abbiamo fatto meno 10 se non avete fatto niente anzi vi è già andata bene che avete fatto solo meno 10 la gente aspetta il risultato finale ma porca miseria già i primi giorni di marzo io avevo delle aziende alle quali dicevo ragazzi qui attenzione perché il vostro problema non è il fatturato il vostro problema è che non avrete da qui a poco la cassa capite la liquidità è l'elemento e allora da che cosa dipende la liquidità e allora qui se io vado a ricercare i driver della liquidità i driver della liquidità non è detto che siano economico finanziari vi posso fare un piccolo esempio sapete quelli che sono entrati più in crisi quelli che hanno avuto tanti clienti che non hanno pagato alla scadenza e secondo voi l'individuazione dei buoni clienti o dei cattivi clienti devo aspettare di non avere cassa per farlo capite qual è il concetto io devo anticipare i problemi in quei casi cosa abbiamo fatto l'unica cosa abbiamo ceduto i crediti insoluti cosa porti a casa dall'accessione di un credito ma lo sapete siete uomini e donne di mondo quindi lo sapete molto meglio di me che cosa si porta a casa ma io devo arrivare a non dover cedere il credito l'accessione del credito è già un risultato non è la causa capite questo è il concetto la causa è che non abbiamo mai dedicato attenzione a selezionare i clienti allora è chiaro che se uno fa il B2C quindi ha i clienti finali che sono migliaia di persone è difficile fare questo lavoro ma provate a pensare a quelli che fanno il B2B che hanno magari un centinaio di clienti soltanto importanti se tutti i cento sono pronti a pagare non ci sono problemi in questi ambiti la crisi di liquidità non l'ha neanche vista laddove io non mi sono attivato e non ho cercato di anticipare capite allora io devo avere degli strumenti che non mi focalizzino solo sulla performance economica e finanziaria e che ovviamente altrettanto importante mi aiutino a capire quali sono i drive quali sono le variabili sulle quali devo concentrare la mia attenzione la selettività sui clienti è l'unica variabile che da qui in avanti tutte le aziende dovranno seguire con assoluta centralità e nel B2C o pagano in contanti o non gli date la roba e infatti chi che sta bene è quelli che hanno i clienti che pagano in contanti ovviamente se sono aperti perché i ristoranti ovviamente normalmente i clienti pagano però lì bisogna inventarsi qualcos'altro però qualcuno si è inventato l'asporto si è inventato ha fatto un po' di asporto allora la balla a scorcare a questo punto che cos'è siccome sono già in ritardo e vedo che qualcuno mi fa cenno sull'orologio che sto per sforare allora cercherò di essere abbastanza rapido la balla a scorcare è uno strumento per pianificare e dare attuazione alla strategia ma soprattutto anche per controllare la strategia realizzata non è solo uno strumento di plan pensate che quando è uscito tutti dicevano schede di valutazione bilanciate per cui tutti note società di consulenza la chiamavano così hanno rovinato la piazza ed altri con le schede di valutazione bilanciata mi hanno rovinato la bana a scorcare però erano usciti come se fosse uno strumento di controllo e basta no no è uno strumento di pianificazione di attuazione e poi di controllo della strategia realizzata per cui questo che a me piace definire il circuito virtuoso della strategia questo circuito virtuoso della strategia con una balance corte avviene sei costretto a farlo perché devi fare un po' di strategy formulation se no la balance non la puoi fare con la balance fai strategy di ruscia e con la balance fai study control poi ovviamente di questi tempi non dimenticate mai di considerare due variabili fondamentali lo scenario e l'analisi del contesto ovviamente competitivo dei competito perché sono due variabili che possono vanificare anche i contenuti positivi di una strategia perché improvvisamente si sviluppano in modo del tutto inaspettato allora che cos'è la balance corte e vedi io qui ho fatto un'intestazione che vorrei voi prendeste in serie considerazione è la dirompente forza dell'innovazione quando Kaplan io avevo avuto la fortuna nell'85 ero stato ad Arvare avevo conosciuto Kaplan e Kaplan una volta mi disse Bubbio noi dobbiamo fare innovazione perché la nostra strumentazione di planning e control è roba che è stata pensata nel 1922 dalla DuPont capite allora dice probabilmente qualcosa nel mondo è cambiato per cui mi sembra strano che gli strumenti che avevamo pensato allora continuino a essere validi poi abbiamo capito che in realtà il budget funziona ancora ma deve essere un budget con i contenuti strategici e allora abbiamo detto ma guarda la balance corte ha un po' questa caratteristica lo faccio rapido questo discorso perché è un discorso che voi sicuramente già conoscete e la balance corte si caratterizza per avere al centro della tutte le riflessioni la strategia e poi ragiona come se io dovessi elaborare una bussola dove il nord è rappresentato dalla financial perspective che viene alimentata attraverso i ricavi dalla customer perspective quindi dalla customer perspective vanno su i ricavi ricordatevi i ricavi non vanno su solo perché il mercato tira i ricavi vanno su perché le aziende fanno realizzano una strategia commerciale efficace hanno dei clienti magari fidelizzati fate a pensare la loyalty quando io dico loyalty ma qualcuno mi dice professore ma lei dice la cosa più scontata diciamo anche alcune persone molto così di preparazione non universitaria quando io vado in azienda mi dico ma professore lo zoccolo duro e lo zoccolo duro fantastico ce l'hanno loro il concetto della loyalty lo zoccolo duro voi che zoccolo duro avete un'azienda che zoccolo duro ha perché se io ho un un cliente che oggi c'è domani non c'è più non è zoccolo duro allora come faccio a garantirmi che ci sia questo zoccolo duro dipende da come io svolgo i processi e sapete una cosa splendida che dai processi vanno su alla financial perspective i costi ricavi costi se i costi non sono equilibrati con i ricavi sono un problema o state facendo male delle cose che invece il cliente vorrebbe che voi facesse bene o state spendendo troppo in cose che il cliente non interessa in un'azienda che vengono svolti bene i processi amministrativi ma sapete al cliente che cosa gliene frega al cliente quello che frega è ricevere la merce se poi non riceve la fattura proprio non gliene può fregare anzi dice sono dimenticati di farmi la fattura così quando arriva la fattura i 90 giorni partono da data fattura il cliente ha tutto l'interesse che il processo amministrativo non funzioni però non potete fargli pagare il fatto che voi avete un processo amministrativo molto articolato viene il professor Bubbio a chiudere tutti i giorni i mastrini e per questo spendiamo un po' e si Bubbio viene perché diciamo lo pagherete magari anche bene ma non è che possa dare un grande contributo nella chiusura del mastrino se uno ha fatto le registrazioni giuste bene se no Bubbio proprio non ci può fare niente posso dare dei contributi ma adesso altre cose sulla valutazione rimanenza ogni tanto mi è capitato di dare dei contributi comunque la cosa interessantissima è che tutto sta in piedi tutto sta in piedi i risultati di un'azienda sono risultati a medio lungo termine validi solo se voi fate learning e innovation solo se voi avete dei momenti in cui avete attivato learning e poi innovation sì posso dirvi una cosa banale che dico sempre ma è importantissima Ocio Ocio non c'è innovation se non c'è learning Ocio diciamo ma non riusciamo a fare innovazione e probabilmente non avete capito niente della vita e se uno capisce della vita fa innovazione i burocrati che non cambiano mai niente non si sono mai preoccupati di capire come gira il mondo loro dicono il mondo deve girare così e vi dicono punto per punto come deve girare allora in questo con questo discorso di Banascocchi che cosa viene fuori viene fuori una cosa interessantissima che come vi dicevo per poter andare a fare un discorso di un pochettino più intelligente io ho la necessità di muovermi in quella che viene chiamata la logica dell'analisi dinamica dei sistemi e quindi con dei modelli dinamici cosa sono questi modelli allora diciamo che i modelli statici che sono quelli che sono stati in prevalenza utilizzati nel giurassico perché perché i modelli statici sono spesso delle grosse semplificazioni della realtà e quindi quando la realtà non era complessa funzionavano bene vi posso fare un esempio di modello statico che qualcuno di voi magari ha ancora la tremenda abitudine di utilizzare la breakeven analysis non esiste più la linearità di ricavi e costi non esiste più mentre la base della breakeven se voi leggete i testi sacri siccome non erano deficienti i testi sacri un certo Joel Dean che è uno che ha scritto le cose più belle sul discorso dell'economics per il manager dice attenzione che queste cose queste relazioni sono valide solo se se cambia il contesto per cui i ricavi non sono quindi oggi si fa revenue management cost management i costi fissi non ci sono più sono tutti fissi ma variabili verso l'alto allora in una situazione di questo genere i vecchi modelli non funzionano più i vecchi modelli che erano statici che sportavano a una ricerca del risultato finale attraverso una serie dobbiamo avere dei modelli invece diversi ovviamente questi modelli statici avevano un'altra caratteristica che erano modelli previsionali queste sono le cose che da professore mi sento di dire ma il tempo è tiranno e quindi vado un esempio di modello statico fantastico c'è gente che vende il Roy 3 come se fosse una novità 1922 questo qui è il 1922 cioè non so se viene questa roba qui è venuta fuori nel 1922 in un'azienda chimica e certo le aziende chimiche cosa sono bene a fare a scomporre la molecola la molecola Roy che lì che cosa si è limitati a fare nel tempo a cambiare poi i termini chi usa Roy chi usa Roy chi usa Rocce chi usa Rorma fantastico l'è sempre il stress l'albero è questo punto guardatevelo poi con calma quando avrete tempo ricevendo i modelli dinamici sono una cosa diversa sono qualche cosa di circolare eccole qua sono quei modelli che mi mettono a disposizione anche efficaci modelli di simulazione quando io lancio un razzo nello spazio e lo devo portare su Marte non uso modelli statici uso modelli dinamici dove individuando le variabili fondamentali cerco di fare in modo che anche se dovesse arrivare una meteorite che mi crea qualche problema io riesco ad anticiparla perché se se la meteorite mi colpisce Marte adios ok quindi devo evitare che la meteorite mi colpisca e devo comunque e devo vedere modelli di simulazione capito voi sapete perché riescono a fare le previsioni meglio oggi le previsioni del tempo hanno messo a punto dei modelli di simulazione dinamica che a forza di dati 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 sono diventati efficaci a forza di capire quali sono le previsioni e naturalmente ancora oggi non ci prendono ma quelli che hanno i capelli un pochettino più bianchi come i miei si ricorderanno il povero Bernacca che faceva le previsioni ecco si dice che c'è bello domani esattamente l'opposto e viceversa domani pioce fantastico domani saranno a prendere perché poveretto aveva dei modelli di simulazione ma c'è un schifo non è colpa di Bernardo anzi lui ci metteva del suo anche la faccia e quindi se volete è anche da stimare come personaggio allora guardate che bello la redditività non è un obiettivo la redditività è un mezzo perché perché la redditività vi consente di attrarre risorse finanziarie di avere un bel flusso di autofinanziamento concetto dimenticato autofinanziamento oggi io alle imprese quando vi dico professore cosa devo fare cerchiamo di capire se hai un buon flusso di autofinanziamento perché se non è così te lo devi creare da qui i ristori quando arriveranno quando arriveranno i ristori e allora cosa devi fare o ti fai prestare i soldi dalle banche che peraltro sono anche se hanno liquidità sono abbastanza restie allora poi questo cosa vi consente di fare di avere disponibilità di risorse finanziarie e con le risorse finanziarie fate gli investimenti che è la vera base di tutta la funzionamento di un'azienda gli imprenditori folli sono quelli che in ambiente perverso e controverso investono questo è matto e viva la follia perché l'investimento quello che io faccio prima di riuscire ad ottenere certi risultati l'investimento è la tipica azione che previene faccio quell'investimento per avere dei risultati da qui a fantastico questo mi consente di aumentare la capacità competitiva e la capacità competitiva provate a fare questo circuito in negativo la redditività scende si asciuga il flusso di autofinanziamento le disponibilità finanziarie si riducono gli investimenti non si fanno si perde capacità competitiva perdendo capacità competitiva la redditività andrà giù è questo che noi con il discorso della mappa cerchiamo di tirar fuori è questa roba qui capite cioè dobbiamo capire le relazioni che esistono tra le diverse variabili questa è la cosa prioritaria fra tutte io metto in sequenza le mie quattro prospettive della balance e appunto vado a ricercare a costruire qui c'è un abbozzo ma per farvi capire che riempire questa cosa non è un gioco stupido riempire questa cosa è un gioco strategicamente rilevante e in più ha una componente se questo gioco lo fate insieme ai dipendenti i principali collaboratori dell'imprenditore è un gioco che porta anche dei risultati alla condivisione della strategia capite fare strategy execution quando sta roba qui è condivisa scusatemi nella mia esperienza è quasi automatico fare strategy execution perché prendiamo un esempio che io ho buttato giù perché ogni tanto cerco di tirare fuori anche qualcosa di diverso io di solito uso e so che c'è maschietta che mi conosce molto bene uso un po' l'autogreen un po' il diesel un po' di casi che ho seguito in questi anni questa è un'impresa di distribuzione che fa diecina di milioni fatturato quindi medio piccola però che è in forte crescita ha un'ottima redditività perché ha capito che il bagno bello lo vogliono tutti vi posso dire soprattutto oggi che state sempre in casa il bagno bello lo vogliamo tutti capite cosa vuol dire qualche business che grazie al covid sta ma tutta la casa se noi abbiamo tre locali sono tre locali si sta male ma se sono anche arredati male si sta ancora peggio per cui anche tre locali li posso far diventare abbastanza invece di andare dieci volte al cinema che tanto non ci posso andare inizio a mettere a posto qua è la la casa continuare la crescita loro hanno showroom perché il bagno ITS è il settore del bagno bagno arredo bagno e cosa abbiamo abbiamo fatto abbiamo fatto una cosa molto interessante vedete qui c'è la c'è un po' la mappa con già tutte le frecce predisposte e poi si fa questa ricerca della relazione se avessimo tutta la mattinata a nostra disposizione la potremo fare ma vedo già il dottor Isola che mi sta guardando male e Alessandro Matavelli che anche no fa no andiamo andiamo allora vi faccio giusto percepire questo è che io voglio hai un po' spazio che vuole vai tranquillo si no scherzavo allora era per avere il vostro avallo capito tirami dentro allora la crescita elevata la crescita elevata da cosa dipende dagli investimenti elevati gli investimenti elevati da cosa dipendono e siamo su un'azienda 10-15 milioni di fattura se vanno in banca a chiedere i soldi no certo magari vado dai miei amici no della della finanza i ragazzi con le bretelle rosse e dico ah ma qui facciamo subito un bel fondo di investimento eccetera 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 e quindi nella sostanza no c'è proprio questo discorso molto importante di autofinanziamento che diventa l'elemento centrale l'elemento centrale se l'autofinanziamento è la reddittività cosa devo fare per avere una reddittività altra capite è un processo logico dove la reddittività è un risultato cosa devo fare per avere la reddittività allora uno dice un numero di clienti elevato e un altro discorso molto importante che questi clienti siano possibilmente fedeli possono essere poi in parte nuovi e in parte vecchi ovviamente e quindi anche questo è un altro elemento da considerare comunque il fatto che il numero di clienti aumenti dipende dalla notorietà e reputazione voi sapete benissimo che un negozio che ha un punto vendita che sia S lunga che sia un euro che sia qualsiasi dipende da una serie di considerazioni che fa il cliente si trova la roba e a seconda degli aspetti o al prezzo giusto o a prezzi particolarmente convenienti quindi l'autorità e reputazione è fondamentale voi potete avere l'ufficio potete avere il negozio più bello del mondo ma se non date gli elementi che vuole il cliente nessuno entra vediamo quel professore guardi che bel negozio il bel negozio non è la gente non vuole il bel negozio la gente vuole probabilmente altre cose se non entra nessuno è perché non vuole il bel negozio vuole qualcosa di più importante certo se io invece sono in fascia alta non solo se faccio l'alto di gamma non solo deve esserci il negozio bello ma appena entri al banco dove le signorine ti fanno il preventivo ti versano anche un goccettino di champagne se l'ora un prosecchino se l'ora dell'aperitivo un caffè cappuccino o un tè se l'ora dell'america questo capite questo ma perché c'è un certo tipo di segmento di clientela che apprezza queste cose comunque la marginalità dei prodotti e i fin dei conti qual è l'elemento fondamentale in questa azienda è la qualità del prodotto servizio non è il prezzo è la qualità del prodotto servizio io devo avere sui diversi prodotti il top di gamma poi posso avere anche un secondo scelta di gamma un top di gamma e poi dopo il top di gamma devo dare un servizio ineccepibile glielo veniamo a montare noi nel giro di 24 ore provate a pensare adesso non vado in showroom ma vado al banco a comprare una caldaia se voi comprate una caldaia la precisione è un acquisto profondamente influenzato dall'installatore per cui tu avete il doppio cliente installatore e cliente finale in questi casi voi dovete fare un'azione sia sull'installatore ma la cosa fondamentale soprattutto se la caldaia è una caldaia che ha una certa costosità e la persona ha una certa urgenza che l'intervento venga fatto io di solito arrivo a cambiare caldaia quando la mia caldaia è andata e la mia caldaia va non d'estate normalmente si interrompe il suo servizio l'inverno e l'inverno se non va la caldaia potete immaginare nel giro di poche ore cosa succede allora mi raccomando per esempio in questa azienda dove io ho lo showroom molto importante devo avere l'interior design cosa sono? ma sono i geometri che fanno capite uno dice chiama l'interior design la gente rimane capite affascinata da questa cosa l'interior design è il geometra che rifà la piantina del bagno e fa delle proposte su come disporre i sanitari nel bagno l'interior design ci vuol poco creare figure mitiche è una figura mitica allora ovviamente in tutto questo bailame che cosa è fondamentale? è fondamentale la gestione del negozio la gestione del punto vendita se avete un buon gestore del punto vendita ma risolverete tranquillamente tutti i vostri problemi e ovviamente questa gestione del punto vendita va poi io adesso vado un po' rapido ve la vedete poi con calma va poi su due cose fondamentali sull'investimento che voi fate nelle persone perché nessuno direbbero a Dancona nasce imparato può nascere per educazione data dai genitori abbastanza educato cioè dire buongiorno buonasera grazie però non è detto che sappia che cosa vuol dire tenere una relazione con un cliente che entra in negozio per esempio su questa azienda siccome c'era spesso clienti che aspettavano delle mezz'ore abbiamo fatto la cosa se ti dice ma no ma Bubbio ci prendi in giro no no abbiamo introdotto l'appuntamento tu digiti che vuoi venire in negozio a una certa ora e io ti dico se sono disponibile oppure ti propongo degli orari nei quali puoi venire e se invece ti presenti in modo del tutto non impugnato perché non sai utilizzare e allora lì sai che io faccio un po' di tempi laghi sui singoli clienti per cui so che posso ritagliare una mezz'oretta tra la fine di uno e l'inizio di un'altra e quindi lo posso inserire lì però gli faccio pesare la cosa guardi proprio perché lei fantastico proprio perché lei è una cosa fantastica perché il cliente dice almeno uno scopino per il water lo devo prendere capite bellezza cioè compra almeno lo scopino per il water strategy into action ripeto strategy into action i preventivi in showroom sapete cosa succedeva? che loro avevano troppi preventivi da fare per cui facevano male i preventivi che facevano e non avevano neanche il tempo di controllare i preventivi che tornavano fantastico cosa è stato sufficiente fare? fate meno preventivi troviamo un criterio per selezionare i preventivi quando vi chiedono il preventivo per il bidet che non usa più nessuno in bagno lasciate perdere quando vi chiedono il preventivo per l'asse del water e per il docino della doccia ma mandateli da Leroy Merlein mandateli da Leroy Merlein perché non è quello il vostro business capite questo è il concetto c'è scritto qua scusate mi raccomando e poi tutto ovviamente tutti gli investimenti torna giù ve lo guardate con calma questo è ve lo dico così lo guardate proprio con interesse è la mappa di Yomo all'attacco di Müller quindi una roba nel giurassico quasi poco dopo è appena passato il giurassico è stato l'attacco di poi c'è un'azienda tessile basta volevo concludere con una considerazione molto importante perché è fondamentale aver individuato le variabili determinanti facciamo bene che così non vi distraete perché è importante aver individuato le variabili determinanti per un motivo molto semplice per un motivo molto semplice ricordatevi sempre che come diceva Seneca non possiamo dirigere il vento ma possiamo orientare le vele voi sapete quali sono le vele che dovete orientare? con la mappa strategica individuate le vele che potete orientare mi raccomando non cercate di dirigere il vento non c'è mai riuscito nessuno da quando Seneca ha scritto sta roba è passato un po' di tempo e nessuno è mai riuscito a dirigere il vento anzi certe volte è il vento che adesso sta dirigendo noi ma comunque al di là delle battute facili niente tutto qui io mi fermo qui perché con la mappa strategica voi riuscite insieme agli altri in azienda a individuare i driver più di così non li dovete neanche spiegare agli altri li avete individuati insieme quindi si investe un po' di tempo per fare l'analisi insieme ma poi una volta che si è fatta questa analisi insieme non c'è più bisogno di spiegarle e poi soprattutto la cosa più importante è che la gente a questo punto non può non aver capito capito quindi di fatto io vedo sempre che quando la gente è coinvolta su queste cose quando viene fuori che il discorso del punto vendita è centrale e deve essere svolto in certi modi a quel punto la gente tutti in azienda sanno per cui quello che lavora al banco è che sempre puncia da far paura perché va in magazzino a spostare le robe quindi è sempre sporco con quello lì quando esce al banco per presentarsi ai clienti deve essere deve aver passato la toilette e presentarsi perfetto pulito perché siamo sull'alto di gamma e l'alto di gamma richiede queste cose i driver sono questi